Comincerà giovedì 18 agosto la raccolta dei libri nel mercatino del libro usato. Da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.30 gli studenti potranno vendere e comprare i propri libri a metà prezzo negli uffici dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, ANMIG, in Viale Regina Margherita. L'iniziativa viene riproposta anche quest'anno e riguarda i testi scolastici di media e superiori per contrastare il fenomeno del caro libri. Ogni anno le studentesse, gli studenti e le loro famiglie si legge nel comunicato dell'associazione si trovano a dover sostenere costi altissimi per poter acquistare il corredo scolastico e i libri di testo.